benvenuti in questo nuovo video dedicato a uomini e donne come già sapevamo nelle anticipazioni che ci ha dato lorenzo pugnaloni.it c'è stata una grossa lite tra Gianni Sperti e Magalgani contro Aurora Tropea. Tutto è iniziato ieri quando la dama ha fatto arrivare dello zucchero per l'opinionista che è rimasto spiazzato. La donna ha spiegato il suo regalo e infatti Aurora dice secondo me tu sei dolce ma non riesci a vedermi sotto un'altra luce ogni anno spero che tu ti addolcisca nei miei confronti. Immediata è stata la replica di Gianni che ha tirato in ballo delle foto che la signora avrebbe pubblicato di recente sul suo profilo Instagram. Mi starei regalando dello zucchero gli dice Gianni io sono più dolce o meno quest'anno dovevi regalarmelo l'anno scorso io non mangio i dolci mi piace il salato. Invece di preoccuparti della mia dolcezza continua Gianni perché non ti preoccupi di comprarti un po' di dignità visto quello che pubblichi su Instagram. Una donna della sua età dice Gianni ha pubblicato una foto senza vestiti in cui si copre col braccio dove chiede agli uomini di riuscirle a darle un po' di felicità. Io dovrei addolcirmi ma lei dovrebbe prendersi un po' di dignità. Tutto ciò ovviamente ha fatto infuriare Aurora Tropea che gli ha dato dello scimmione e addirittura ha detto che lo denuncerà. La lite ovviamente è continuata e si aggiunta anche Gemma che ha accusato la Tropea di aver pubblicato delle storie contro di lei. La donna ha negato e ha minacciato querele a entrambi per calugna. L'ira ovviamente di Maria di Filippi che ha messo a tacere Aurora. Maria infatti dice di essere stufa. Sono 16 minuti dice la conduttrice che state parlando di queste cose, di questo argomento. Pensa quanto sono stufa io e Aurora ha risposto alla conduttrice per le rime. E allora Maria perché permetti tutto questo? Dimmi tu che cosa ne pensi? Lascia il mio like se ti va e iscriviti al mio canale. Ciao e alla prossima!